Musica Oh dai no, non resta ancora un po' Sì, perché vuoi già andare? Dai, è così divertente Oh sì, lo so bambini, ma sono venuti qui solo per le pagelle Sì, ora l'hai vista le nostre pagelle Dai, facciamo qualcosa No, mi dispiace La nana non sta tanto bene E dopo devo vedere Insomma, non la voglio lasciare da sola Altrimenti sono guai Ok, però comunque Sono contenta che ci porti sempre così tanti giorni Bambini, questo non lo deve sapere nessuno È un segreto tra di noi, ok? Sì, è vero, ho ragione Perché se no mamma e papà Soprattutto papà, ci mangerebbe tutto Ciao Claudia, tesoro Vado a casa, ci vediamo Ciao papà Ho appena sentito che la mamma non sta tanto bene Allora buona guarigione Oh, come sono stanca oggi Storo sul divano Oh, Marti, il mio cognantino preferito Anche tu vorresti passare tempo con me Però devo andare Eh, sì, certo Vorrei proprio passare tempo con te Sì Però peccato che devi andare Oh, no, no, no Vorrei stare veloce Eh, Julian, aspetta Eh, non so cosa vuoi fare Ah, che bello I bambini possono giocare su Io qui ho un po' di relax Ok, abbiamo tre confezioni di caramelle Poi abbiamo i cioccolatini E una ciambella al cioccolato Siamo tre Quindi direi Ognuno prende una confezione di caramelle E poi Uno può avere la ciambella E due possono avere i cioccolatini Io prendo la ciambella E per me Cosa? No, no, no La ciambella è mia Sì, 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 sì Assolutamente Un momento Se due litigano Quindi vince il terzo Anche avrei voluto la ciambella Oh, oh Troppo tardi L'ho leccata Oh, mio La volete adesso? Oh, Julian Sei sempre il solito Volevamo dividerla Ah, non funziona mai Dividerla Io prendo subito questi Eh, Julian Emma Ferma Stop No, non mangiate tutto Mi dispiace Quello che ho mangiato L'ho già mangiato Non esce più Ok, allora Se cominciate Allora incomincio Io mi prendo Questo e questo Oh, sono troppo pieno Oh, però devo mangiare Altrimenti le vogliono gli altri Non ne posso più Oh, quanto sono piena No, no Non posso per stare in piedi Penso che torno a sdraiarmi Oh, sì Buona idea Rimaniamo qui tutto il giorno Perché Oh, sono una palla Oh, arrivano le notizie Di Playmobil City C'è qualcosa Claudia, guardia Martin È qui da noi All'ospedale Cosa succede? Buonasera Signore e signori Il mio nome è Sandra E mi trovo qui Davanti all'ospedale Di Playmobil City Nella nostra città C'è un virus Molto, molto importante La T. Lillite Sono tantissime persone Quelle colpite Come possiamo proteggerci? Ecco qui Una nostra infermiera E lei ci spiegherà qualcosa Quali sono i sintomi? Buongiorno No, non c'è da divertirsi Si parla già di un'epidemia Coi Playmobil City L'ospedale è pieno i sintomi Difficile da spiegare Ci sono alcuni che hanno amnesia Ci sono alcuni che hanno febbre Svenimenti Mal di pancia Ai 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 E quanto dura? Insomma, non è una malattia mortale Ma ci sono dei casi divertiti Insomma, che sono tutte storie Anche in quarantena Quindi non c'è niente da ridere Oh, oh, oh Ok, avete sentito Ma stiamo lavorando Mi raccomando State attenti alla vostra salute Queste sono le notizie Oh, tesoro, ho sentito Aiuto Cosa sta succedendo Coi Playmobil City Spero che non siamo contagiati Oh, no E tuo padre però Appena ha detto che Allora, non sta bene Oh, no Spero che lei non sia malata E che non ci abbia contagiato Ma aspetta un momento Dove sono i bambini? Julian Emma Anna Vole siete? Oh, oh Mamma e papà ci chiamano Stanno per arrivare Sistema veloce Altrimenti sono guai Julian Io la metto qui Ok Oh, va bene Oh, sto malissimo Penso che non sono mai stata così male Boh, non mi riesco a muovere Sono una palla Ragazzi, ragazzi Oh, restate straiati Basta Oh Ah, sì, sì Tutto solo perché avete voluto Mangiare tutti quei dolci Ma, vabbè Martin I bambini sono straiati Tutto bene? Martin Martin, per favore Chiama subito il dottore Deve venire a trovarci Non c'entri a scorzare I nostri bambini sono malati Oh, sì Certo, certo Chiamo subito l'ospedale Oh Cosa c'è? Tutto bene Pensavo che fossero qua Invece Mamma Si occupa Oh, tutti e tre Che siete stati colpiti Oh, no Stavate bene prima? Sì, sì È super urgente Lo so che avete molto da fare Al momento No, dovete venire Oh, grazie dottore Che è venuto Ah, buongiorno Mi seguo Mi seguo I bambini sono sopra Dovremmo dire alla mamma Che non siamo malati Ma che abbiamo mangiato Troppi dolci Oh, il tesoro Ce l'ho fatto Ecco qui il dottore Ah, meno male Può guardare prima qui La piccolina Penso che non sta bene per niente Julian Addirittura è arrivato un dottore Dice a mamma e papà Che insomma Abbiamo mangiato solo tanti dolci Eh, voglio di prendere guai No, no, no Facciamo finta Siamo attori, no? Oh Ok, voi tre Allora guardiamo un po' Sentiamo Eh, eh Dove dice che sia la telelite? Non lo so ancora dire Aspetti Ok Il cuore Normale Voi tre Ora Aprite la bocca Dite Ah Ah Ok Sembra tutto a posto Ok Qui ci sono ancora un po' Di dolci tra i denti Ma altrimenti tutto bene Dei vostri figli Quindi non hanno la telelite Davvero no? Ah, meno male Bambini Mi sono preoccupata tantissimo Cosa avete allora? Oh, meno male Che non è la telelite No Allora Vediamo un po' Anche lei Ah, sì, certo, certo Emma e Yule Magari dovremmo dire alla mamma Ma cosa è successo? Oh no Che rompiscatole Oh, va bene Di cosa state parlando? Eh, ecco Eh, il nonno è rivenuto prima Sì, ci ha portato un tanti dolci Per quello non stavamo tanto bene Quello che eravamo sul pavimento Oh no Di nuovo il nonno Mamma, cosa c'è? Ehi, ehi Dottore, dottore La mamma è svenuta Giulia, cosa? Signor dottore, per favore Guardate qui, per favore Oh Oh Qua è uno dei sintomi Della telelite Allora Le vostre funzioni vitali sono ancora Ma Spero che si sveli tra poco Vado subito a avvitare i miei colleghi dell'ospedale Devono venire velocemente Portalo in ospedale Allora 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 Allora